C'è un'altra notizia buona che riguarda le infrastrutture perché relativamente alla linea Roma-Pescara RFI ha giudicato i lavori di raddoppio della tratta interporto d'Abruzzo-Manopello-Scafa, quindi è proprio di oggi questo. Con buona pace di chi anche durante la campagna elettorale negava l'evidenza e faceva finta che questo risultato non fosse stato raggiunto. È un lungo percorso realizzare un raddoppio, una velocizzazione ferroviaria, una nuova linea, è una delle cose più complesse, difficili, costose e tecnicamente difficili da realizzare. Quindi questo nuovo passo nella giudicazione della gara lo accogliamo con grande sollievo, con grande gioia. Non vedo l'ora che i cantieri prendano davvero corpo, ora si procede alla progettazione esecutiva e spero al più presto all'apertura dei cantieri, cominciando magari dalle opere compensative che sono le prime che vorrei i cittadini vedessero, ma ne parleremo nei prossimi giorni con RFI perché la prossima settimana RFI sarà qui in questo palazzo, Palazzo Silone, per presentare il dibattito pubblico che è già iniziato, ma l'ultima fase del dibattito pubblico è invece sulla tratta precedente di questi due lotti, che è la tratta che congiunge Pescara a Chieti passando per San Giovanni di Atino, quindi si entra nel vivo anche di quella parte di tracciato, ci confrontiamo con le amministrazioni e con i cittadini ed RFI presenterà anche le sue soluzioni progettuali a cominciare dall'attesissimo interramento di Piazza Italia, del passaggio a livello, del passaggio al centro di San Giovanni di Atino, di San Buceto. e quindi anche questo segnala che su questa opera la Ferrovia Roma-Pescara si sta lavorando seriamente come mai era accaduto prima e si raggiungerà il risultato di realizzarla.